buona mattina amici di megano tale oggi siamo collegati con bergamo e con ezio cattaneo buongiorno ezio bergamo il buongiorno giancarlo buongiorno a tutti bergamo è storicamente l'endquarter di sonepar italia in lombardia anche se milano conta qualche cosa no pure per voi ben detto giancarlo storicamente bergamo è l'edquarter di sonepar in regione lombardia ma in realtà l'evoluzione che abbiamo portato negli ultimi anni su milano in termini di infrastrutture porta sempre più l'epicentro regionale verso milano a maggior ragione da quando abbiamo operativo il nostro gioiello che l'era experience center che è un grande collettore di incontri di eventi di scambio con fornitori e con clienti quindi sempre più verso la metropoli milano va bene comunque tu che sei il numero uno di sonepar italia in lombardia hai il tuo ufficietto a bergamo questa è la tradizione con l'ufficio anche bergamo corretto dove l'altro risiedo ecco perfetto allora e beh bergamo nel mondo elettrico italiano cosa conta insomma e non solo persone far direi sia profonde profonde radici senti sentenza noi oggi dobbiamo parlare dobbiamo fare un bilancio tra il 23 2024 quindi come prima cosa ti chiedo ti chiedo una visione più ampia quindi esci dal tuo abito di sonepar per qualche minuto e dimmi e la lombardia che è il mercato numero uno il mercato elettrico numero uno in italia com'è andato in generale e poi mi dirai com'è andato per voi di sonepar a te la parola è che il mercato regionale del 2023 è andato decisamente bene considerando l'espload del 2022 legato ai fenomeni che ben conosciamo da 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 super bonus 110 la regione ha espresso una crescita comunque di tre punti e mezzo che non è così banale tra l'altro ben diluita sia sul corso il materiale elettrico che sui cavi sul fotovoltaico sonepar in lombardia è andata altrettanto bene devo dire grandi soddisfazioni sul materiale elettrico dove nel 2022 i nostri clienti si erano un po distratti sui fotovoltaici quindi erano un po tutti sui tetti dicevamo scherzando con i fornitori nel 23 abbiamo ritrovato questo grande focus quindi ottima crescita sul materiale elettrico per quanto ci riguarda è andato un pelino meno bene se devo essere onesto sull'ambito dei cavi dove abbiamo performato qualche punto in meno per una politica sicuramente legata al pricing quindi voluta e sul fotovoltaico considerando il decremento del prezzo è andato comunque bene con un segnale sicuramente negativo ma se consideriamo la potenza i watt che abbiamo tradotto in sellout sicuramente in forte in forte ascesa ancora noi dobbiamo ricordare lo dico io non lo faccio dire a te che sono il gruppo mondiale sonepar in lombardia è presente anche con le bandiere di sacchi che credo sia un protagonista di primissimo piano e che quindi in qualsiasi maniera che consideri amici parenti o comunque anche rivali sul territorio diciamo è molto influente sull'andamento del gruppo in questa regione giusto sì assolutamente sia una grande realtà credo che sa chi esprima il 70 per cento del suo turnover in regione lombardia quindi una fortissima presenza molto capitale certo allora torniamo però a parlare di sonepar Italia in lombardia perché ti vorrei chiedere quali sono state le situazioni e i prodotti che vi hanno dato le maggiori soddisfazioni nell'arco del 2023 poi ti chiederò quali invece sono state le vicende negative ammesso che ci siano state certo allora faccio una piccolissima permessa ti ricordo un po' qual è la nostra organizzazione lombardia siamo presenti con 13 punti vendita questi 13 punti vendita mi presidiano cinque province che sono milano bergamo brescia mantava e cremona quindi non presidiamo le restanti con punti vendita fisici e siamo circa in 155 collaboratori quindi una bella squadra storica ben consolidata cosa andato bene in termini prodotto nel 2023 sicuramente le linee elettive per la lombardia sono e rimangono la power distribution dove abbiamo una grande storia una grande storicità abbiamo delle buone competenze che sempre più andranno a nutrirsi con l'evento delle business delle business unit soprattutto cavalcando anche il discorso della transizione energetica quindi dalla media tensione power center ai quadri intelligenti dove ci siamo davvero resi proattivi nella spinta soprattutto nella metropoli di milano molto bene anche tutto quello che mondo connesso e qua mi riaggancio a quando dicevo prima il nostro gioiello era smart center considera giancaro che l'anno scorso siamo riusciti a totalizzare 270 eventi in questa nostra air experience center variegati tra formazione dei dei mercati specialistici dei collaboratori dei nostri pivot di linea ma anche soprattutto con clienti e fornitori quindi questa per noi è davvero un'eccellenza che stiamo portando avanti con grande orgoglio bene tutta la parte civile ma soprattutto quello che ne deriva in termini di mondo connesso mondo aiuti mondo veramente importante in forte crescita di conseguenza è andata bene anche la luce che sempre più entra nel sistema connesso e sempre meno rimane comunque un apparecchio stand alone quindi molto bene anche l'aspetto della luce che invece l'anno prima non era andato così bene cosa è andato meno bene sicuramente per effetto del 2022 del super bonus tutto quello che al mondo delle hbac faccio riferimento soprattutto le pompe di calore qualche disturbo ce l'ha dato e come dicevo prima cavi e fotovoltaico sicuramente non hanno prodotto un segno un segno positivo quindi le linee elettive sono la power distribution il mondo connesso e anche l'automazione industriale non è andata male sicuramente in linea con quello che il mercato regionale ha espresso allora adesso siamo nel 2024 e quindi io ho l'obbligo di domandarvi quali sono le vostre ambizioni le vostre speranze e e poi ti chiederò per ultima cosa ma prima facciamo una pausa se ci saranno degli eventi tu sai dove voglio andare a parare che glorificheranno l'esistenza di zone paritali in lombardia ma cominciamo con le vostre ambizioni le vostre speranze e vostri progetti certo allora nel breve sicuramente non nei prossimi mesi non abbiamo sicuramente previsto l'apertura di nuovi punti vendita lombardia come sono cosa stiamo facendo cosa vogliamo fare per i prossimi mesi potenziare quelle esistenti ma soprattutto aumentare le competenze quindi arricchire con l'innesto di persone specialistiche le competenze all'interno di degli stessi punti vendita esistenti quindi trasformare il punto vendita in un vero e proprio competence center un punto d'incontro dove il cliente e il fornitore trova tutte le competenze delle nostre linee di prodotto come dicevo poc'anzi lo faremo con particolare interesse sulla power distribution e su tutto il mondo connesso senza chiaramente trascurare le restanti linee e quindi adesso arriviamo al dolce finale a quello che io sto immaginando dall'inizio della nostra nostro dialogo perché mi è capitato di presenziare a un vostro evento me lo ricordo sempre come se fossi di ancora adesso e quindi che tra l'altro un evento molto complesso perché c'era da mangiare c'era la buona musica e c'era il mercato elettrico come si chiama summer si ricordi bene si chiama sonepar summer festival sonepar summer festival benissimo allora c'è di nuovo quest'anno ci stiamo pensando ne parlavamo giusto con i colleghi durante la riunione commerciale di gennaio abbiamo fatto sei edizioni quindi ci siamo fermati solo negli anni del covid e l'abbiamo fatto sempre come evento permettimi il termine un po ludico che era un po l'unione di tutta la filiera quindi i clienti al centro come sempre i fornitori i collaboratori quindi una serata dove c'era del buon cibo ci si beve si fa un brindisi assieme della buona musica e un piccolo spiccio aziendale di ringraziamento stiamo pensando se andare in continuità o se magari per quest'anno cambiare un po il forum e allinearlo un po ai tempi un po più moderni andremo comunque in continuità con un evento lombardia ma sempre a bergham no è itinerante gian carlo una delle condizioni di questo evento che ogni anno cambiavo provincia infatti abbiamo toccato principalmente bergamo milano e brescia che è l'asse della quattro in buona sostanza non l'abbiamo mai fatto nella stessa location va bene e quindi restiamo in attesa di importanti novità che ci comunicherete dal headquarters di bergamo questo sì molto volentieri gian carlo grazie a ezio cattaneo il signor sole par italia in lombardia che ho nominato sul campo grazie 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 e buon lavoro grazie buona giornata a tutti grazie a tutti